L'investigatore l'hanno definita la casa di riposo degli orrori. Dall'indagine che ha riguardato l'assistenza e la cura degli ospiti della Villa San Camillo di Aci Sant'Antonio emergono racconti da brividi, anziani nudi lasciati sul pavimento insieme ai loro escrementi, altri incastrati tra le sbarre del letto, piaghe non curate e peggiorate. Sono solo alcune scene che i grabinieri hanno visionato. La parte più inquietante dell'inchiesta è che queste immagini sono state estrapolate dal cellulare e sequestrato a luglio del 2019 a Giovanna Giuseppina Coco, dipendente della struttura. I militari hanno trovato nel suo telefonino le fotografie scattate all'interno della casa di riposo nel periodo compreso tra marzo e giugno 2019, che immortalano i maltrattamenti e i danni dei nonnini indifesi. Un'inchiesta coordinata dalla Procura di Catania che ha fatto scattare la misura del divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale per la durata di 12 mesi nei confronti dell'amministratore Giovanni Pietro Marchese, di 60 anni, e la misura del divieto temporaneo di esercitare la professione all'interno di case di riposo e strutture di assistenza per anziani per la durata di 9 mesi nei confronti delle 3 dipendenti. Giovanna Giuseppina Coco, di 37 anni, Rosaria Marianna Vasta e Alessandra Di Mauro, entrambe di 41 anni. Alla documentazione fotografica nel falcone dell'inchiesta si aggiungono anche le intercettazioni che fanno accapponare la pelle. Schifoso, sporco, più schifo di te non ce n'è, non mi rompe l'è là. Così si sarebbe rivolto uno degli indagati a un anziano. Che schifo di persona, che schifo, educazione zero, ora la lascio sulla sedia tutto sporco di pipì come porci. Questo l'insulto che avrebbe subito un nonnino di 100 anni, che poi per punizione sarebbe stato costretto a mettersi a letto da solo. Gli indagati avrebbero minacciato un'anziana di legarla, lasciarla piena di feci e di non lavarla. Il pianto della povera donna ha riempito le orecchie di chi era deputato ad ascoltare le intercettazioni. Gli accertamenti avviati dopo il sequestro dei cellulari hanno documentato la totale inerzia dell'amministratore che non avrebbe vigilato sul personale. L'omissione avrebbe consentito alle dipendenti indagate di maltrattare gli anziani che oltre ad essere minacciati, insultati, umiliati, non sarebbero nemmeno stati curati e assistiti a dovere. Infatti i militari hanno verificato che non sarebbero state garantite nemmeno le condizioni igienico-sanitarie di base. Nella casa di riposo i carabinieri hanno avvistato dei topi e alcuni anziani avrebbero contratto la scabbia. Nel corso di un'ispezione inoltre i militari hanno trovato un ospite letteralmente intrappolato nel proprio letto con sedie e divano a fargli la barriera. Inoltre alcune operatrici, risultate percettori del reddito di cittadinanza, risultavano lavorare in nero. Sono state denunciate a piede libero.